Dichiaro chiusa la discussione generale. Alla parola per la replica il relatore senatore Feno. Prego senatore. Sì, grazie presidente. Allora io sarò brevissimo anche per cercare di portare a termine in breve tempo il provvedimento, la sua approvazione. Però volevo giusto fare una considerazione, visto che se ne è parlato i colleghi dell'opposizione ne hanno parlato più degli altri. Diverse volte hanno richiamato la flat tax. Allora io sono d'accordo sul fatto che la pressione fiscale vada ridotta e si debba pensare, sicuramente lo si farà anche con i provvedimenti successivi alle partite IVA. Io stesso sono una partita IVA e capisco qual è la difficoltà di chi lavora senza quella che è la tutela tipica dei lavoratori dipendenti. Però quello che voglio dire è che la flat tax non è la soluzione e mi dispiace che gli amici della Lega abbiano sposato il tema della flat tax credo senza neanche condividerlo in pieno. Perché tutti gli studi dicono che la flat tax agevola soltanto i redditi più alti. Ma senza andare a cercare gli studi soprattutto di alcune associazioni che tutti conosciamo, anche recentemente abbiamo avuto in commissione l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che ci ha fornito una tabella molto semplice da cui si evince che con l'applicazione della flat tax, quella che abbiamo approvato anche noi, che io condivido per altri aspetti gli stessi lavoratori autonomi pagano meno tasse a parità di reddito per i redditi più bassi dei lavoratori autonomi che applicano la flat tax. Questo è indicato nella tabella. Non solo, su tutti i redditi medio-bassi che applicano l'IRPEF, tutti i contribuenti che applicano l'IRPEF pagano meno imposte rispetto a chi applica la flat tax. Quindi con la flat tax si è voluto rispondere a un'esigenza che era quella della semplificazione e questo è condivisibile. Ma se vogliamo parlare di ridurre la pressione fiscale, tutti ci dicono che con la flat tax ai redditi medi e bassi non si riduce la pressione fiscale ma anzi si aumenta ed è il migliore il sistema di imposizione diretta IRPEF e soprattutto quello che è auspicabile anche nel lavoro che farà il governo e noi che faremo come maggioranza è una ridefinizione dell'IRPEF soprattutto in termini di maggiore linearità nella progressività dell'imposta. Quindi non rubo altro tempo ai colleghi e ci tenevo a fare questa osservazione. Grazie Presidente.